Domenica apposto per far conoscere questa strada, la foresta della lama, a più persone, organizziamo ormai da otto anni questo evento che si chiama In Bici e Scarponi. Proprio il messaggio è questo, venite In Bici e Scarponi, quest'anno anche a cavallo, per conoscere la foresta della lama. E se volessero partecipare anche le famiglie? Beh, certamente, fatto apposto per le famiglie, per i ragazzi appunto. Noi fra l'altro abbiamo anche biciclette che diamo a noleggio, quindi se uno deve chiamare il parco sentire se c'è la disponibilità. La partenza delle biciclette è alle 9, per quelli che fanno un giro molto impegnativo e con una guida che li accompagna, ma è un giro per mountain bike e per esperti. Alle 10, alle 11 invece per le famiglie, per i gruppi, per una passeggiata in questa strada. Poi ci sono anche le escursioni a piedi e il ritrovo è alle 9 e mezza al centro di vista di Badia Prataglia. Per aiutare le persone che vengono, perché sono 20 km di strada straordinaria, leggera discesa, molto godibile, aiutiamo le persone che debbono tornare su questi 20 km, che poi sono quasi tutti di salita, portando le biciclette e le persone con pulmini. E' quindi necessaria anche una prenotazione? Sì, assolutamente, perché appunto dietro c'è un'organizzazione. Qui si può sentire con gli uffici del parco, però vi potete presentare anche qui domenica e sentire appunto la disponibilità. Lungo il percorso, lungo questi 20 km, però abbiamo organizzato anche dei momenti proprio di visita. Dove siamo adesso? Che a Pian della Saporita, quindi siamo proprio all'interno di questa strada, della lama, e qui si sente ronzare dietro di me appunto le api. Ci sarà un momento di animazione, con anche la degustazione del miele che si produce in questo luogo. Un'iniziativa fatta anche in collaborazione con il Corpo Forerastale dello Stato? Questa è un'iniziativa proprio fatta insieme a loro, ma anche a livello operativo, perché grazie a loro, grazie ai loro operai, noi siamo riusciti ad allestire tutta una serie di cose che vedrete quando verrete a visitare la foresta domenica.